di solito l'errore più che una degli errori più grandi che si fanno quando si fanno le foto sono le luci però non è che puoi girare con un telo di quelli che riflettono la luce giusto e anche no invece no sbagliato ecco qua praticamente al posto questo qui non è di quelli da fotografi questo qui è uno di quelli d'automobile quelli che pensano quelli per prendere e allora in sostanza con questo qui no io posso usare il telo dell'auto per riflettere guarda come sei più belle così un po meno un po di più prova 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 adesso tutti metti mettiti un po così fai vedere sei pronta tira un po su tira un po così che sia perfetta aspetta ferma eccola per cui non c'è più bisogno di dover comprare uno da fotografi basta usare quello della macchina quindi per strada ci vedrete tutti